Ormai è quasi tutto pronto, mancano solo alcuni dettagli per il completamento della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castellaneta. Il comandante provinciale uscente del corpo, l'ingegnere Pierpaolo Patrizetti, si è recato sul posto per visitare il cantiere. Un'occasione per salutare il sindaco Giovanni Gugliotti e la giunta comunale, in vista dell'ormai imminente trasferimento al comando di Ancona. La struttura è stata rivoluzionata grazie ai fondi per l'adeguamento sismico. Non smetterò mai di ringraziare il comune e soprattutto il sindaco che ci lega a un rapporto ormai eccezionale, che sono riusciti a completare l'opera nel giro di un anno e qualche mese. Per noi questa realizzazione è fondamentale perché dal punto di vista logistico questo è un punto di riferimento per tutta la parte ovest della provincia che non possiamo farne a meno. Quindi non vediamo l'ora di rientrare e rendere operativa anche questa nuova sede. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati, soprattutto per far lavorare i nostri vigili del fuoco in sicurezza. Al secondo tentativo siamo riusciti a ottenere questo finanziamento, un finanziamento importante per l'adeguamento sismico di questa struttura. era, consentitemi una battuta, un controsenso che la sede dei vigili del fuoco non fosse adeguata sismicamente. In caso di emergenza questo deve essere il punto di ritrovo e dal quale gestire. Ci auguriamo che non succeda mai, ma qualora dovesse succedere di qui dovrebbero essere gestite tutte le operazioni di soccorso. Quindi va da sé che questa struttura deve necessariamente essere adeguata sismicamente.